Dio sta tornando ad essere sexy. È un titolo provocatorio, perché al giorno d'oggi deleghiamo questa parola, così pesante direi, Dio, deleghiamo Dio alla religione. Ma se Dio fosse altro? Se noi iniziassimo a scardinare quelle credenze che, ahimè, precedenti al Medioevo hanno portato questa parola ad essere così nelle menti delle persone, come un nervo scoperto della nostra società. Quando Dio tornerà ad essere sexy, anzi diventerà sexy, allora comprenderemmo, forse, al giorno i nostri, il vero significato che c'è. Spiritualità, religione, sacro, Dio. A me non piace tanto parlare in questi termini, poiché sono termini troppo generici. Non si sa chi è Dio, non si sa cos'è la spiritualità, non si sa cos'è la religione. È un qualcosa di poco tangibile. E anche se nei miei video parlo di cose poco pratiche, in realtà per chi ha questo sentore interiore può capire che sono molto pratiche, non è pura filosofia. Ma se applichiamo questa nuova mentalità che sta nascendo, questo Dio che si sta facendo un po' sexy, che viene a trovarci nei social, che viene a trovarci su Facebook, su Instagram, attraverso le persone che ne parlano, possiamo capire che forse si sta rivestendo di un'altra forma. E quindi imparare a capire che questi strumenti che abbiamo, per esempio i social, sono una potenzialità, non sono qualcosa di negativo, sono degli strumenti e come strumenti sono qualcosa di neutro. Posso usarli bene, posso usarli male, sta a me la scelta. Personalmente ho scelto di utilizzarli in modo attivo, attraverso la trasmissione di piccole riflessioni, più o meno quotidiane, che possono portare gli esseri umani a capire che dietro quelle etichette che sono le parole, dietro quei contenitori di significato, c'è un qualcosa di più profondo. Ecco, rivestire di sacro, ma il nuovo sacro, non quello noioso dell'antichità. Rivestire questo dio di un abito più moderno è forse il mezzo necessario che attraverso questo mezzo, che sono i social, attraverso questi social, può essere divulgato. E attraverso la sua divulgazione può aiutare molte persone a trovare un senso anche a quello che vorrebbero nella loro vita. Grazie.